L'esistenza che vi vogliono vedere e che è descritta su tutti i piani futuri per l'umanità è un'esistenza da mucche, da allevamento. L'esistenza della sorveglianza tecnologica, finora ci hanno fatto giocare con i cellulari, adesso cominceranno un pochino, perché uno dei motivi per cui hanno voluto, stanno insistendo, lo dirò anche più avanti su questa apparecchiatura elettronica del marchio verde, io preferisco chiamarla all'italiano il marchio verde e anche questo, noi saremo schietati più di adesso col telepass, ci faranno chiaramente dove siamo, come ci muoiamo, ma la libertà l'ha usata per quello che ha fatto, che sappiamo tutti. Bene, ora abbiamo l'arcobaleno, il simbolo della pace è diventato simbolo di totalitarismo, vedete non cambia molto, è sempre lo stesso protocollo, in tutti i regimi totalitari della storia si prende un simbolo, si fa come la Fabian Society che aveva citato pure, che ha parlato prima di me. Con la mangiatoia piena, con il nostro reddito di cittadinanza nella mangiatoia piena, con gli spettacoli davanti agli occhi che ci ipnotizzano e noi siamo felici e vediamo il calcio, le ballettine, i nostri Sanremi, questa è la vostra esistenza, questa è l'esistenza a cui aspirate. Grazie. 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 Grazie.